Volevo ringraziare gli amici del Consigliore che sono sempre pronti a dare dei consigli. Mi meraviglia che poi in alto se ne sovrapposti di un anno, ti danno solo un consiglio di un anno. Il mio intervento è stato all'aprendimento. Sì, però, andiamo avanti. Anche questa mattina, i numeri non contano, contro la nostra politica. La politica è anche in Italia. Votete ridere quando volete, noi non abbiamo chiesto niente, abbiamo partecipato a questa amministrazione, c'è qualcuno che sta fuori perché ha chiesto troppo e non ha assoluto niente, e quindi stanno fuori. Stanno fuori benvenuti. Voi sono un'unità delle valute. In questo caso, in Dammarcazoni, la schiena di Don Juan, il consigliere Don Juan, il consigliere Petroni, l'assessore Brenna. Ci devo apprezzare, ci dico chiunque, in questa sala a dire cosa. Sono un'ugia, se si dice di votare. Allora, il titolo dell'administrazione? Beh, è un titolo dell'administrazione? Pensate che l'administrazione dovrebbero andare con tanti scappellini, così, se potete vedere. Riparano questa città, se no che alcuni non avrebbero gli altri attenti adatti. Avevano altri simili attenti. E quindi... Stanno fuori. Ho chiesto a me che mi piace solo che i due consiglieri, Manco e Forstini, che hanno fatto un percorso lineare con noi, hanno avuto delle divergenze all'interno del suo partito, che è giustificato che chiunque non è delle differenze. mi era migliorare il contrasto con la maggioranza, con questa situazione che io avevo condiviso, fin dall'inizio, nel senso del cittadino. Allora, è vero che oggi qualcuno dice che è un altro politico, ci rendiamo la foca di altri politici. Ma so che c'è qualche grande, forse più di uno, di grandi partiti, che non aspettano altro che, ti dico io in questo discorso, di direzione che è capocciata, anche nel senso del tempo, fino al senso della russa, ma pensate a direzione fino al 20 settembre, con il testo con il testere, perché ci sono dei grandi innocenti che vengono da Natura, che vengono da Napoli, che vengono davanti anche possibilità di partecipazione a questi grandi partiti, a questa amministrazione. Noi in Italia, dove voglio che non ci sia libero, che in causa, ma fino ad andare avanti, viene conciato il bilancio all'Europa. E chi prenderà quello che si metterà la responsabilità, carica di consiglieri, delle responsabilità sono nostre, dei piccoli consiglieri, e quindi, ognuno di voi, rappresenta una parte di questo popolo, che ci ha delegato, che ci ha delegato, che ci ha delegato, in questo modo, che non faccio tempo, cioè, a peggio non lo faccio, sto facendo un discorso politico, personale, perché, praticamente, il consigliere comunale, deve prendere una decisione, quella che viene dalla carta, di consentire che questo ci sarà, in strada, da un posto di carico del benedizio, e poi ci saranno le organizzazioni del lato prossimo, e che, sfido a chiunque, a percorrere il vostro cuore, tra i miei loro costituzioni, probabilmente ci saranno altri giusti, altri scontori, e quelli non ci potrebbero mai, questa città, è una caratteristica penalizzata. Ecco che io dico, allora, in questo momento, una città di caratteristiche, che non conoscevano, rispetto a questo consiglio comunale, al fine di questa, che ci sono le bravi. Il nostro sindaco, non città, di capacità politiche, come se mai altri, di che stavano qui, in sala, e che hanno a partecipare a questo consiglio comunale, che stagliato, sostanzialmente, però la società, che è la persona che prende, e noi, tra i miei loro sentivano, non solo in tutto. Quindi, il mio amore, il mio amore, e con un senso di responsabilità, città di sinpezza, in cui se procede, ad andare avanti, con altra disdicomposizione, non ci sarebbero, assolutamente, non ci sarebbero, e dopo, e dopo, faccio il viaggio, perché dei consiglieri, che esce, di fortemente, al di làno dei figli, e di nuovo, quello che ha fatto una banda, che sto qui, e per quello che si dice, per noi, 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 adesso, il governo, ha già eseguito il problema del governo. Allora, il piano primale, è fondamentale, ma, è fondamentale, perché, questo, non locare per questo piano, significhe, non locare, anche i famosi, un grado diulsione di Europa, che è una 걸로 di questa città, è una sorta per anche da ME e lo genero, ci saranno tutte le persone che si sarà ins importato è una situazione periodistica e questo è, è osservato tutte le persone, e noi ci chiediamo il giornale di sicuramente che se qualcuno in mura attraverso qualche settembre che non la liquidanza non la parte delle instituzioni non è solo sito, ma non è necessario, a modo del plan di questa partita, se deve responsabilizzare il suo privato della partita. Alcune, con la lunga strada soluzione e positiva, che non è necessario un giorno nuovo di responsabilizzazione. e non sia un fenomeno di uomo, ma che si vengono a Altan oggi non si vengono anche con il senso del piano. Io credo che si vengono a un punto di ric�azione.